Però la politica ha una responsabilità in questo preciso momento. Lo chiedo alla Lega. Responsabilità della politica? Forse la responsabilità della politica sicuramente in questo momento è trovare e creare gli strumenti per combattere nel migliore dei modi e nel modo più efficace possibile tutte queste azioni violente e soprattutto prevenirle. I decreti di cui parlavamo prima vanno in quella direzione. Cercare di far sì che le persone perbene che vivono in Europa, che siano cattoliche o musulmane, che siano bianche, rosse o nere o che siano di qualsiasi credo o qualsiasi altra cosa, possano vivere in un'Europa che sia l'Europa che conosciamo. Un'Europa democratica, un'Europa civile dove non c'è il rischio di essere falciati per strada da un terrorista. Però